Innanzitutto buongiorno, ben arrivati a tutti. Con il forno a vapore io posso cuocere a diverse temperature. Ho un range di temperatura che va dai 40 gradi ai 100 gradi, perciò a seconda dell'alimento che cuocio utilizzo una temperatura diversa. Il vapore esalta tantissimo tutte quelle che sono le proprietà, le caratteristiche dell'alimento che rimane assolutamente intatto dal punto di vista nutrizionale. Oggigiorno abbiamo scoperto che mangiare in un determinato modo può influenzare il nostro futuro, questo nel mondo degli adulti, può veramente determinare quello che può essere il nostro futuro in termini di salute. Ma poi in realtà mangiamo a casa la gran parte dei nostri giorni, quindi se noi riusciamo a migliorare la qualità di vita, la qualità del nostro cibo quando siamo a casa tutti i giorni, abbiamo un miglioramento delle nostre qualità esponenziale. Di base uso il mio cuore, anche poi lo decliniamo con un microonde, lo decliniamo con una piastra induzione o un sifone, poi ognuno trova la strada che vuole.